Tu non devi guardare, non c'entro niente. Ok, non basta. Sì, dai, l'ho vista. Sì, tu vado a spostare. Sì, vado a spostare. Sei d'accordo che non posso mai? A me vedrai. Va bene, dai. Ci credo. Quarto scelto, cagliaro. Forza, io ti chiedo la sua cosa, non ti vedrai. Non ti senti, ma non ti senti. Non ti senti. Non ti senti, ma se fosse il mio fratello che io sono, e non si prende. Non ci 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 prende. Ma ne sei di qua. Sei di qua. Tu ne sei di qua. Tu ne sei. Io non posso mai la tua parola. Non, non ci prende. Ma sei interessante che un intervista. Io so che io ho visto qui. No. Io so che io ho visto che un'altra cosa, non? Non ci prende. Non ci prende. Non ci prende. Non ci prende. Ressi. Allora facciamo così, per me la puoi, per me la puoi. Ok, fai vedere anche a lei, che la vede bene, vista? Bravissima! Che è successo? Non sei di qua ancora? Vista? Mettila voi. Ascolta, la vuoi cambiare? No, perché non ti possiede anche la possibilità di cambiare, giusto? Carissimo, tu mi insegni. Ma tu stai facendo foto o non è problema? Non è problema. Non è problema. E io prima gioco me no. Vai, vai. Te la ricordi la carta, giusto? Sì. Ok. Una, la prossima carta. Che le prime due parti, mi danno la somma della carta. È un quarto, giusto? È giusto la carta della carta. La prossima carta, lui dice che è una carta rossa. È un quarto rosso, giusto? È un quarto. È un quarto. Poi non dire il quarto. È un quarto. E quindi controllando il totale, non lo faccio a rossa. Dammi un'altra. No, no, no. Dammi un'altra. Dammi un'altra. Guarda, ha detto tre, giusto? Questo è il quattro di quadro. No, no, gira. Ma ha detto tre, giusto? Se tu gli avessi trattato che ci fosse la tutta del quattro di quadro, giusto? Sarebbe incredibile. Allora, questo è un po' di prima. Vai. Due. Questa è la terza carta. E tu dico che l'hai letto, gira. E tu non lo so. Vabbè, se ci manca la testa... Mi fa morire. Però la storia ti chiede una cortesia. Mosco, la cosia, una. Pensa lì. Ce l'hai? Ti hai vista bene? Ti piace questo altro? Ti dà un'emozione. Ti dà un'emozione. L'ascendente non lo sa. Ok. Sono qui sotto. Sono qui sotto. Cinque di fiori. Perché si... C'è una spiegazione. Un cinque di fiori deve essere da qualche parte. Un... Un altro solito. Sono qui. Non ci sono qui sotto. Non ci sono qui sotto. Eeeeeeee. Beh. Sì. Grazie.